Il comparto del vecchio ospedale, la basilica di San Francesco e il monastero del Corpus Domini sono alcuni degli edifici fatiscenti a Cremona, in stato di degrado da molti anni. Per parte di questi sono stati recentemente annunciati dei progetti di riqualificazione che, secondo la minoranza, sarebbero tardivi e strumentali alle elezioni comunali previste per quest'anno, così come la ripresa dei lavori di costruzione del parcheggio di Via Dante. Noi cogliamo con grande favore l'ipotesi secondo la quale il comparto, ad esempio, di Via Redaelli e della basilica di San Francesco sono soggette comunque a una progettazione per il recupero. Cogliamo anche però il fatto che dopo dieci anni di amministrazione si intensificano i discorsi intorno ad esso, soltanto adesso, proprio alla vigilia delle elezioni. Quindi crediamo che di fondo si tratti più di una mossa elettorale che non di un reale interessamento o di un'attività di amore verso la città di Cremona. Il parcheggio di Via Dante è l'emblema della incapacità di questa amministrazione di gestire trasformazioni del territorio edilizie di una certa dimensione, di una certa importanza. Tra l'altro il parcheggio di Via Dante è anche un oggetto architettonicamente molto semplice, strutturalmente banale, che però ha richiesto otto anni di lavori tra progettazione e gestione successiva delle cose e non abbiamo ancora visto la luce. In prossimità delle elezioni si stanno intensificando le chiacchiere intorno a possibili progetti, ma in realtà da questa amministrazione credo che non ci sia da aspettarsi molto la capacità poi di poter gestire quanto vanno promettendo. Per tornare al comparto Redaelli-Ospedale Vecchio, sicuramente non è un intervento semplice da gestire. Se per tornare al parcheggio di Via Dante facessimo un parallelo in termini di tempo, credo che si andrebbe a delineare un quadro per il quale questo progetto venga realizzato in decine di anni. Non solo l'opposizione, diversi cittadini esprimono i propri dubbi in merito allo stato di trascuratezza di alcune zone della città. Nel 2024 cosa ci sarebbe? Attorno al monastero di Santa Chiara, la Via Dante. La Via Dante è anche molto trascurata per altri motivi, anche secondo me. Anche la via, ad esempio, la zona dove abito io, la Via Ghinalia, è molto trascurata, molto sporca. Il vecchio ospedale di Cremona. Non è messo molto bene, è molto fatiscente, è pieno di piccioni sporco intorno e sarebbe bello che venisse recuperato.